musica come sono andate queste serate qua a Ginger? sono andate che eravamo tre mesi fa eravamo qui in piazza non c'era nulla non c'è mai stato nulla e ho deciso di venire qui a creare con questi ragazzi il gestisco Antonio e Andrea e si è deciso di partire per una serata a settimana per rendere un po' più viva la zona di Scandicci e questa cosa del box come è venuta di chiamarla box 518? perché ero come edificio vicino a una scatola 518 il codice postale Scandicci era un'idea per partire con delle serate per me questo posto rappresenta un'occasione un punto di ritrovo dove ritrovarci tutti i giovedì di sera si va a portare un po' di gente di Scandicci a Scandicci è una cosa nuova perché di solito c'è sempre questo fatto da Firenze vengono a Scandicci e Scandicci vanno a Firenze alla fine ho un po' di buona volontà un gruppo di amici sono riusciti a portare un po' di ragazzi di Scandicci a Scandicci a creare un punto di aggregazione per tutti i ragazzi che stanno qui e si spera andando avanti la prossima serata si continua sempre così giovedì diamo l'appuntamento per il giovedì prossimo tutti giovedì Ginger e Oscar ciao 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 ciao